Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Mihaly Csikszentmihalyi potrebbe essere uno scioglilingue per alcuni, ma in realtà è un nome ed un cognome. Ed è quell'autore che ha definito il cosiddetto flow, cioè un concetto di flusso, cioè che lo chiama anche esperienza ottimale, che è caratterizzato dal sentirsi completamente immersi in un compito che stiamo svolgendo con degli effetti sulla percezione della stanchezza. Quindi la persona che si trova in uno stato di flow è completamente immersa al punto di non sentire nemmeno lo sforzo che deve fare volontariamente, non sentire nemmeno la stanchezza. Il tempo quasi sembra scorrere senza nessun intoppo. E la persona, trovandosi così addentrato in tutti quegli aspetti, in tutti quei gesti e quelle azioni che servono per arrivare a determinato obiettivo, si sente completamente in questo flusso di coscienza, potremmo dire quasi alterata. Questo concetto, che rientra un po' in una categoria molto ampia della psicologia reale, quindi non semplice speculazione, che viene definita psicologia positiva, quindi quella che si focalizza sulla qualità della vita, sulle esperienze appunto positive, un po' in contrapposizione alle visioni più legate alla cura della psicologia più classica o delle psicologie più classiche, con il concetto di flow arriviamo ad uno di quegli elementi fondamentali nello studio di com'è l'esperienza umana nella normalità. In particolar modo, quando ci troviamo a svolgere quindi un compito, possiamo entrare in questo stato particolare, che in teoria dovrebbe portarci a ottenere i migliori risultati, quasi senza sforzo particolare, proprio come ti ho accennato nelle battute iniziali. Ora, nonostante questo potrebbe sembrare idilliaco, quasi incredibile come fenomeno, in realtà ci sono alcuni aspetti che non lo determinano in modo assolutamente positivo. Infatti il concetto di flow è in alcuni aspetti sovrapponibile a quello che è un iperfocus, che rappresenta quindi una forma di assorbimento tale al punto che possono essere iniziati diversi compiti, ma non tutti vengono portati a termine nel modo corretto. Quindi entrare in questo stato di focalizzazione intensa delle proprie risorse, potremmo dire anche quindi in uno stato di flow, non sempre garantisce i migliori risultati. E perché questo ci interessa? Perché ad oggi è molto comune individuare la tendenza negli studenti a ricercare questo stato di flow per studiare, sempre nel tentativo di eliminare degli sforzi eccessivi o cercare di non percepirli, e quindi trovare sempre quel trucchetto nuovo, quella tecnica in più, o magari piegare qualche concetto per fare in modo di essere utilizzato per studiare, come questo avviene anche in tantissimi altri ambiti, in cui i concetti che nascono per un ambito vengono forzati in altri. Quindi voglio parlarti del concetto di flow applicato allo studio, nello specifico, quindi in riferimento a tutto il canale, allo studio universitario, e quindi vediamo cosa devi fare attenzione e cosa invece è reale e puoi quindi applicarlo, nel tuo caso in particolare. La prima domanda che potresti pormi è ma quindi il flow può essere considerato una tecnica, una strategia per lo studio? Non voglio assolutamente negare la presenza e l'esistenza del flow che è stata anche confermata, non in modo uniforme, ma comunque confermata, ma non mi sento di definirla una tecnica. È un fenomeno sì utile, che se si verifica è sicuramente qualcosa da cui trarre vantaggio, ma non è affidabile al punto che interessa a noi per studiare in modo efficace. E quindi cosa intendo dicendoti che non è una tecnica, ma potrebbe essere utile? Allora, intanto dobbiamo ritornare un po' a quello che l'autore, che non nomineremo per non rendere ancora più complessa l'esposizione, ha proposto come i tre elementi fondamentali per entrare nello stato di flow. E dico subito che, a mio parere, sono elementi molto generali, molto ampi, che poi possono essere invece concretizzati, resi molto più facili da applicare, ma lo vedremo a poco a poco. Quindi, intanto partiamo dall'individuare quali sono questi tre elementi. Numero uno, è fondamentale avere un obiettivo chiaro da perseguire per arrivare a uno stato di flow. Numero due, è necessario un feedback, quindi dobbiamo ottenere delle informazioni che ci permettono di aggiustare i nostri sforzi in base al compito, a come procede il compito. E numero tre, parliamo del rapporto tra la difficoltà del compito e le nostre abilità in generale. Per cui non può essere scelto un compito troppo difficile, perché sarebbe troppo frustrante, e non può essere scelto un compito troppo facile, perché sarebbe demotivante. E quindi, in entrambi i casi, in entrambi gli estremi, non possiamo arrivare a quello stato che ci interessa, che è poi quello di esperienza ottimale, in cui le risorse vengono investite in modo ottimale. Questo ci fa capire, quindi, che c'è un qualcosa che possiamo fare per arrivare ad uno stato di flow, ma in realtà non possiamo affidarci al 100%, anche perché questa riproducibilità non è tutta sotto controllo. È un fenomeno che si verifica una buona parte delle volte, ma noi non possiamo agire con una probabilità, per cui ci troviamo a dover rinunciare, a studiare uno, due, tre, o anche molti più giorni, perché quel giorno non è capitato uno stato di flow. Ora, per riuscire a creare invece qualcosa di molto più concreto, che possiamo utilizzare come strumento a nostro favore, voglio farti capire come questi tre aspetti che ha proposto CXMihali, possiamo in realtà riportarli e ricrearli per ottenere i risultati che ci attendiamo, quindi proprio nello studio, nello specifico. Quindi approfondiamo ciascuno di questi aspetti uno alla volta. Numero uno, abbiamo detto che è fondamentale avere degli obiettivi chiari. Questi obiettivi non devono essere in generale uguali per tutti, devono essere specifici nel tuo caso. E quindi come possiamo applicare nello studio questo principio? Partendo subito dall'individuare quante pagine vuoi studiare o quante pagine puoi studiare. Quindi l'obiettivo deve essere chiaro e in funzione delle tue caratteristiche in particolare. Questo potrebbe essere anche esteso in una fase più in là, durante lo studio, in cui stai cominciando a ripetere, quindi a esercitare l'esposizione, e questa fase può essere, ad esempio, misurata, tra virgolette, quindi gli obiettivi possono essere definiti, individuando un tot di capitoli che devi ripetere in quella mezza giornata. Questo è molto più concreto, molto reale. E ti dico subito che la caratteristica di impostare lo studio in questo modo è quella di permetterti di non essere schiavo esclusivamente di un obiettivo che è quello di arrivare allo stato di flow, ma in realtà puoi ottenere i risultati dello studio che desideri a prescindere dal flow. E questa idea te la farò vedere anche negli altri due aspetti. Infatti, passiamo al secondo elemento, quindi quello del feedback. Se stai studiando e ti rendi conto che studiare 15 pagine è troppo semplice perché ti rimane molto tempo che in realtà potresti investire nello studiare ancora, allora in quel caso stai ricevendo un feedback, hai un'informazione che ti permette di capire che quello che hai studiato non è abbastanza per le tue capacità, per le tue abilità. E quindi è necessario aumentare il carico di studio. Questo è un feedback immediato, può funzionare anche al contrario. Quindi hai impostato 35 pagine al giorno come metro di studio che devi rispettare e in realtà sono troppe, quindi comincia a diminuire e ti fermi su un 30 pagine giornaliere che diventano quindi il tuo valore ottimale. Anche in questo caso hai un feedback, ti aggiusti e quindi ottimizzi in funzione delle tue caratteristiche. Abbiamo visto quindi che nel primo e nel secondo elemento arriviamo anche alla terza fase, al terzo strumento per riuscire a entrare tra virgolette quindi nello stato di flow proprio perché puoi fare in modo di aggiustare in base al valore del feedback il tuo sforzo in funzione anche delle tue caratteristiche e quindi siamo arrivati anche al terzo aspetto. Aggiustare le tue abilità con la difficoltà del compito nello specifico. Siamo arrivati quindi a capire che ci sono questi tre elementi che sono fondamentali ma questi possono essere degli elementi utilizzati per arrivare a ottenere dei risultati a prescindere che si manifesti, tra virgolette, lo stato di flow. Quindi che questo si presenti o no, puoi tranquillamente ottenere i tuoi risultati a livello dello studio universitario. Per cui ti invito a utilizzare questa tecnica in questo modo non aspettandoti ogni giorno di trovarti in uno stato di esperienza ottimale anche se può capitare o comunque puoi cominciare a rendere più facile l'avvento di questo fenomeno però non aspettarti che questo si verifichi tutti i giorni e questo ti libererà molto dall'ansia e dal peso di dover aspettare questo fenomeno per riuscire a studiare come vuoi tu. Poi se si presenta tutto ti guadagnato se non si presenta i tuoi risultati li raggiungi tranquillamente. Prima di chiudere voglio anche dirti che il concetto di flow e di questa esperienza ottimale tra lo sforzo che puoi compiere alle difficoltà del compito stesso è un concetto assolutamente non rivoluzionario non è innovativo e si basa proprio sul funzionamento anche dell'aspetto emotivo che ci caratterizza e che si realizza nella performance. Per farti un esempio quando sei particolarmente ansioso o troppo ansioso o ansiosa in quel caso ti senti bloccato o bloccata e quindi non riesci ad agire come vorresti. Lo stesso avviene nell'estremo opposto quando ti senti troppo poco ansiosa o troppo poco ansioso e quindi in quel caso diventi demotivato e non riesci più ad agire come vorresti perché non hai nessuna spinta o non ti senti attratto da niente. Questi due estremi rappresentano proprio i due estremi in cui non si può verificare il flow per cui è invece ottimale riuscire a creare quello stato in cui ti senti sì in ansia potremmo dire perché devi studiare perché devi sostenere l'esame non sai se otterrai risultati che desideri voti alti eccetera ma al tempo stesso sai come utilizzare i tuoi strumenti per studiare e quindi arrivare esattamente dove vuoi tu. Quindi abbiamo capito che il concetto di flow è interessantissimo ovviamente ha in parte una base scientifica ma in realtà non possiamo affidarci solo a questo e dobbiamo avere qualcosa che ci rende liberi o comunque non schiavi di questi fenomeni che possiamo creare al nostro piacimento fino a un certo punto. Quindi spero di averti fatto capire cos'è il flow come funziona e nei limiti del possibile come utilizzarlo a tuo favore e come fare in modo che questo non ti limiti e quindi avere sempre un piano B per riuscire a studiare nel modo corretto. A questo punto ti invito ad iscriverti al canale se vuoi rimanere aggiornata o aggiornato su tutti i video che escono quotidianamente e se hai qualche dubbio vuoi farmi sapere cosa ne pensi quali sono le tue esperienze con il cosiddetto fenomeno del flow ti invito a scrivere nelle sezioni dei commenti leggo con moltissimo piacere e rispondo con altrettanto piacere. A questo punto ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ci vediamo nel video di domani.